L'assessorato al welfare del Comune di Lecce sosterrà anche per l'anno 2021 i centri estivi diurni che svolgono attività educative, ricreative e culturale rivolte ai ragazzi fino a 16 anni di età, attivando due misure. Una specifica per i soggetti promotori di centri estivi diurni e l'altra destinata alle famiglie più vulnerabili che, a differenza del passato, potranno chiedere rimborso in maniera diretta e non tramite le strutture. La somma disponibile per i benefici è pari a 250.000 euro circa. Nel dettaglio, la prima misura è dedicata al sostegno dei soggetti promotori di centri estivi diurni, esercizi socioeducativi territoriali e centri di funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, operanti sul territorio comunale per le spese relative all'acquisto di prodotti e dispositivi per l'igiene ambientale individuale e per la prevenzione del contagio relative all'acquisto di materiali, attrezzature, trasporto, biglietti di ingresso a parchi, lidi o altri luoghi simili. L'entità del contributo sarà calcolata in proporzione ai bambini iscritti a ciascun centro, considerando una quota di 30 euro pro capite. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 agosto, utilizzando esclusivamente il modello domanda promotori centri estivi che si trova sul sito del Comune di Lecce.